Dopo il grande successo di Figli Violati, l'avvocato René Rocchino Nardari ritorna col suo nuovo libro, Padri Calpestati. Dieci storie vere di uomini separati. L'avvocato continua la sua battaglia contro le ingiustizie. Con questo libro vuole dar voce a tutti quei padri, emarginati, ignorati, calpestati, privati del diritto di amare ed essere amati dai loro figli. È necessario che l'enorme piaga sociale dei padri separati e divorziati venga conosciuta per sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di risolvere situazioni a volte drammatiche. Parliamone, perché i problemi degli altri sono anche i nostri e delle generazioni future. Parliamone, perché i problemi degli altri sono anche i nostri e delle generazioni